Come vendere abiti e accessori usati su Vestier Collective ma anche su qualsiasi altro sito. Ciao a tutte, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono anche l'autrice di una serie di corsi e manuali tutti dedicati all'immagine e al benessere di noi donne over 40. Oggi sono qui per fare un video molto utile, molto pratico, spero che mi è stato richiesto già tantissime volte e che riguarda la possibilità di vendere le cose che non usiamo più, i tesori che si nascondono nel nostro guardaroba su diverse piattaforme. In particolare oggi vi parlerò di Vestier Collective perché è quella che conosco meglio sono anche una loro affiliata quindi se mai voleste comprare qualcosa di preamato ma anche di nuovo perché si trova anche tanto nuovo su questa piattaforma qua sotto vi linko anche un mio codice personale che potete utilizzare per avere un piccolo sconto sugli acquisti che farete. Oggi però siamo qui al contrario per parlare dei tesori nascosti nel nostro guardaroba che potremmo, che magari non usiamo più per vari motivi e che potremmo sicuramente vendere monetizzandoli su varie piattaforme. Questo non è solo un gesto diciamo sensato dal punto di vista economico secondo me ma è anche un bel gesto verso l'ambiente. Infatti io sono convinta che le belle cose possono avere una seconda e anche una terza vita. Magari noi ci siamo stancate oppure banalmente non ci vanno più bene certe cose ma non è detto che non possano trovare diciamo una nuova esistenza ed essere amate anche da altre persone in futuro. Perciò la prima cosa che vi invito a fare ed è anche il primo consiglio che vi do è quello di andare nel vostro guardaroba e fare una sorta di blitz, una sorta di decluttering veloce per trovare nel minor tempo possibile, è proprio divertente darsi un limite di tempo, tutti i capi e gli accessori che possiamo facilmente mettere in vendita. Il decluttering come voi sapete è sempre una pratica sana aiuta a liberare la mente, aiuta a liberare i nostri spazi, a creare diciamo nuovi spazi per il nuovo e non intendo solo nuovi acquisti ma anche proprio in modo più filosofico, più generale per tutte le novità belle che possono entrare nella nostra vita. Quindi è sempre una pratica che io approvo in ogni caso, in questo caso è ancora più utile perché ci permette di identificare velocemente tutti quegli oggetti, capi e accessori che possiamo prontamente mettere in vendita. Se volete un aiutino in più per iniziare a fare decluttering in modo magari anche divertente qua sotto vi linko una guida gratuita che ho fatto io con un bellissimo promemoria colorato che potete stampare e vi consiglio di tenerlo nel guardaroba, nell'armadio e che potete scaricare gratuitamente, basta lasciarmi l'indirizzo email, il vostro nome di battesimo e vi verrà recapitato un link a casa dove potete tranquillamente scaricarlo gratis. Se invece volete approfondire di più io ho realizzato anche una guida che è già stata comprata migliaia di volte che si intitola decluttering per chi ama la moda ed è proprio un manuale, una guida di decluttering orientato proprio a chi come noi, come voi, ama davvero vestirsi, ama le cose belle, ama la moda perché toglie tutta quella cosa un po' troppo pratica, un po' troppo triste, legata a volte, associata a volte al decluttering anche secondo me ingiustamente e quindi aiuta molto. Quindi il primo consiglio è fate un ride nel vostro guardaroba, identificate subito più cose che potete mettere immediatamente in vendita. Il secondo consiglio è senz'altro legato a questo step preliminare ed è il fatto di non mettere in vendita un oggetto alla volta ma di trovarne più di uno che potete mettere in vendita insieme perché tutto il processo che adesso andrò a spiegarvi anche molto concretamente, questo video è anche un po' un tutorial, si snellisce moltissimo se voi fate le stesse cose, quindi prendete e scattate le foto, le caricate sul Vestier Collective o su un altro sito di vostra scelta, scrivete la descrizione, se lo fate per più oggetti in una volta sola risparmierete tantissimo tempo perché se un giorno, non so il lunedì, trovate un paio di scarpe ancora nuove che mettete in vendita, il venerdì magari una borsa e rifate tutto, vi costerà molto più tempo. Se invece lo fate per più oggetti in una volta sola, non solo risparmiate molto tempo ma è anche molto più gratificante perché riuscite a vendere tutte le cose assieme, quindi anche diciamo le entrate che ne seguiranno arriveranno un po' tutte assieme e voi vi formerete una sorta di gruzzoletto di nuovo budget magari per futuri acquisti in un pochissimo tempo. Io per esempio l'ho fatto domenica, ho fatto un piccolo ride, ormai di cose da vendere, ne ho davvero poche perché il mio guardaroba negli anni si è molto snellito, è diventato decisamente minimal, però ho trovato un paio di stivaletti leopardati e un portafoglio di Chanel vintage che mi era stato regalato nell'ambito di una collaborazione passata e che io però non volevo tenere perché ho già un portafogli che mi soddisfa e quindi l'ho messo in vendita. Due ore dopo avevo venduto sia gli stivaletti che il portafoglio e quindi sono soddisfattissima. Un terzo consiglio è quello di scattare delle foto belle e soprattutto delle foto che siano finalizzate appunto alla rivendita delle vostre belle cose, quindi innanzitutto fate le foto, io non sono certo maestra per tutto quello che riguarda le foto, però fatele con una bella luce in modo da inquadrare bene gli oggetti, fatele soprattutto con uno sfondo neutro. Un errore che fanno tantissimo e poi si lamentano che non riescono a vendere gli oggetti è quello di scattare delle foto dove magari c'è il centrino della nonna, i resti della pizza da sporto del giorno precedente, il gatto che rilascia peli e tutto sulla foto insieme magari alla borsa di Louis Vuitton e poi si lamentano che non riescono a venderla. Io penso che chiunque, qualsiasi futuro acquirente delle vostre belle cose voglia immaginarsi l'oggetto che comprerà diciamo contestualizzato nella sua di vita e quindi più neutro lo sfondo, più risalta l'oggetto e più facile sarà anche venderlo e soprattutto se date l'idea appunto di una casa, di una provenienza ecco pulita e in ordine del vostro oggetto sicuramente siete avvantaggiati a livello di vendita. Un quarto consiglio è in parte legato al fare le foto ed è quello di non nascondere mai eventuali difetti o segni di usura delle vostre cose, non so fili tirati, graffi sul pellame, un tacco un po' usurato, questo vi risparmia tantissimi guai nella fase successiva perché se no rischiate che qualcuno compra il vostro oggetto di cui magari avete scattato delle bellissime foto nascondendo un po' questi difetti e poi però si lamenta, vi lascia recensioni negative, insomma tutta una serie di cose spiacevoli che è sicuramente facile e anche semplice evitare. Io addirittura quando vendo qualcosa che è un piccolo difettino, un piccolo segno d'usura non solo faccio delle foto in grandimento ma lo scrivo anche dettagliatamente nella descrizione e mi sono sempre trovata bene così, alla fine la gente comunque avete capisce in che condizioni è l'oggetto nel complesso, vede che si tratta magari di un ingrandimento del difetto e quindi il vostro oggetto lo compra lo stesso ma è molto più soddisfatta perché si sente trattata con onestà e questo secondo me è un punto molto importante che spesso induce invece all'errore opposto quindi non fatelo perché vi assicuro che l'onestà funziona molto meglio. Un altro consiglio è quello di fare una bella descrizione del vostro oggetto, con bella non intendo che deve essere pittoresca e fiorita, anzi la gente ormai l'attention span la durata della nostra concentrazione è sempre più breve per cui se voi riuscite con poche frasi incisive a descrivere bene l'oggetto per iscritto con tutte le sue caratteristiche metteteci pure qualche aggettivo positivo, quello va benissimo ma a parte quello cercate di rimanere su una descrizione ben fatta, stringata, precisa con tutte le cose. Immaginate sempre anche che cosa le persone potrebbero poi chiedervi sull'oggetto facendo magari fatica perché devono scrivervi, contattarvi, chiedervi ma quanto è lungo, largo, come calza quella scarpa, insomma tutte queste cose che anche voi magari avete chiesto quando dovevate comprare qualcosa. Ecco cercate di anticipare queste richieste e metterle nella vostra descrizione perché risparmia tempo e poi facilmente uno fa click sull'oggetto che desidera e lo compra subito invece poi magari di ripensarci perché deve farvi mille domande. Un altro consiglio è quello di scegliere in funzione dell'oggetto che andate a mettere in vendita la piattaforma giusta. Io qua vi sto facendo vedere come è semplice vendere su Vestier Collective perché è veramente una piattaforma che vi facilita enormemente il lavoro vi aiuta fase dopo fase, vi indica che tipo di fotografie dovete inserire quindi è veramente una procedura guidata è molto semplice. Io adoro Vestier Collective ma devo dire che va benissimo se i vostri oggetti per quanto vecchi per quanto usurati anche vintage va benissimo se sono o di una grande firma oppure di marca perché questi sono gli oggetti innanzitutto accettati da Vestier Collective perché a me qualche volta è capitato di mettere in vendita magari cose di marche italiane che sono comunque delle signore marche di vedermele rifiutate mentre accettano senza problemi qualsiasi brand a volte addirittura dei capi che sono stati un po' iconici di marche come Zara vengono accettate o Max & Co per farvi due esempi vengono accettate ma magari altre cose di marche assolutamente ottime ma un pochino più scure o meno ricercate dal mercato vengono rifiutate quindi ecco Vestier Collective va benissimo per tutto il firmato anche cose molto molto vecchie che possono avere 20-30 anni quindi rientrano assolutamente nel settore del vintage va benissimo va benissimo anche per tutte le cose di marca non so se avete cose sto pensando ai brand italiani di Patrizia Pepe, Pinco, Liu Zhou sicuramente le vendete bene magari ecco marchi meno conosciuti è un pochino più difficile però esistono appunto anche tante altre piattaforme dai gruppi Facebook dove magari è richiesta un pochino più di attenzione perché sono gruppi tra privati quindi bisogna un pochino basarsi sulla buona fede quindi cercate voi per prima di essere assolutamente limpide e trasparenti ma anche tante altre piattaforme magari sto pensando a The Pop o a Vinted che non conosco affatto ma ne sento parlare ultimamente quindi magari esploratele un po' io appunto se avete qualcosa di davvero bello di marca oppure di addirittura firmato puntate su Vestiaire Collective perché trovo che dia tantissimo lustro e valore perché elabora anche le vostre foto togliendo il contorno e quindi gli dà veramente un altro valore e solitamente riuscite nonostante la commissione che Vestiaire Collective come tante altre piattaforme si prende a vendere il vostro oggetto molto meglio un altro consiglio è quello di fissare un prezzo leggermente più elevato di quello che siete disposti ad accettare questo perché facilmente vi arriverà la controfferta e quindi magari vi incontrerete da qualche parte nel mezzo e sarete entrambe soddisfatti la persona che compra perché ha ottenuto magari uno sconto e voi perché avete comunque spuntato il prezzo che in origine volevate ottenere questo ovviamente vale in qualsiasi settore vale anche quando vendete qualcosa che avete usato un altro consiglio è quello di avvalervi per alcune piattaforme e Vestiaire Collective lo offre del cosiddetto servizio concierge è un servizio dove voi non dovete pensare a niente spedite il vostro oggetto e ci pensano loro a fotografarvelo a descriverlo a metterlo in vendita insomma se avete poco tempo e tante belle cose da mettere in vendita può convenire il servizio concierge che chiaramente a livello di commissione costa qualcosa di più che se siete voi a mettere in vendita il vostro oggetto però ecco valutate anche questa possibilità un'altra piattaforma che credo che abbia questo tipo di servizio è anche rebel che però io non ho mai usato quindi personalmente non conosco però lo trovo un'ottima opzione per chi ha più cose belle da mettere in vendita e poco tempo un altro consiglio è quello quando spedite il vostro oggetto anche se l'avete già venduto confezionatelo con cura io è una cosa che faccio sempre tra l'altro mio marito si diverte nel tempo libero a farmi proprio delle belle confezioni dai bei pacchi quindi io penso più a metterlo bene con le veline che conservo gelosamente quando invece sono io a comprare e poi faccio dai bei pacchi perché mi è capitato tantissime volte che nelle recensioni delle persone poi menzionassero il fatto che non rimaste molto contente perché avevano ricevuto un pacco fatto con amore con cura e quindi erano particolarmente soddisfatte anche di questo per cui ecco se potete dedicare un pochino di cura io tengo ormai tutte le scatole che entrano in casa dall'online shopping le veline che ricevo le tengo tutte con amorevole cure poi le riciclo quindi anche lì è un altro gesto perché diamo una seconda vita anche a questo materiale di imballaggio il che non guasta mai dal punto di vista anche proprio strettamente ambientale poi siamo tutti più contenti un ultimo consiglio è quello di informarsi sulle varie modalità di spedizione c'è la posta ci sono diversi servizi di corriere valutate a parità di qualità qual è il più conveniente ma non rischiate anche lì perché poi magari trovate la modalità di spedizione particolarmente economica ma anche di scarsa qualità l'oggetto magari non arriva mai o arriva solo settimane dopo e voi rischiate solo delle grane quando il vostro obiettivo era vendere facilmente in modo snello qualcosa che non usate più quindi ecco evitatevi magari per la differenza di qualche euro anche questo tipo di stress perché a volte succede e quindi non è mai bello ecco per nessuno questi sono dieci consigli che ho voluto darvi per vendere al meglio i vostri tesori e ripeto cominciate con un bel decluttering del vostro guardaroba e se avete bisogno di ispirazione qua trovate sia la mia mini guida gratuita che il manuale di decluttering per chi ama la moda che vi naturalmente vi consiglio perché non aiuta solo a rivendere bene i nostri tesori ripeto il gesto di rivendere le cose che non usiamo più soprattutto se sono ancora belle in buone condizioni è assolutamente un gesto anche ecologico e che ha un senso anche dal punto di vista economico per cui io posso solo consigliarvi di farlo fa anche bene perché uno rivede un po quello che è acquistato e che magari ha amato usato in passato e quindi in qualche modo interiorizza anche una serie diciamo di informazioni utili per lo shopping che farà in futuro spero che questo video vi sia stato utile se è così mettetemi un bel like magari iscrivetevi al canale accendete la campanella per non perdervi neppure i video che farò in futuro e con questo non mi resta che augurarvi un'altra splendida giornata ciao ciao ciao